amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati oggi parliamo di comunicazione cerchiamo di capire una passaggio fondamentale se la controinformazione o informazione indipendente e anche questa come definizione vedremo quale delle due può essere più efficace a qualche margine di miglioramento sicuramente sì nell'efficacia della comunicazione e abbiamo qui oggi con noi due ospiti molto portati molto importanti per approfondire questo tema do il benvenuto a gianluca magi storico delle religioni e docente di filosofia benvenuto grazie grazie a voi e saluti a tutti e benvenuto ben ritrovato davide rossi analista politico e scrittore ciao davide buonasera carlo buonasera a tutti allora intanto partiamo parlando della informazione dell'informazione mainstream e volevo capire magi su quali tecniche di comunicazione si stanno concentrando tv e giornali in questa in questa fase storica allora dopo la pandemia abbiamo il conflitto russo ucraino e adesso questa questa ipotetica emergenza climatica sì beh alla luce direi delle undici tattiche di manipolazione oscura che ho desunto dalla massa immane di scritti di gebbels e del suo operato come ministro della propaganda nazista che cosa osservo oggi osservo che la tecnica di comunicazione su cui si sta concentrando il mainstream dal periodo psicopandemico ad oggi è certamente il primo principio tattico ovvero la semplificazione nemico unico che cosa significa significa che nello specifico il nemico unico è chi dissentiva prima dal farsi inoculare nel corpo un farmacogenico sperimentale poi il nemico unico è è chi dissente dal coinvolgimento e dall'invio di armi in ucraina poi il nemico unico è chi dissente dalla narrativa abborracciata sulla co2 e sulle origini del cambiamento climatico intendo dire che questa tattica perfida e ripugnante è messa in atto dal sistema di dominanza e sottomissione attraverso la reiterazione della identica messa in scena dello stesso messaggio semplificato messaggio semplificato che getta nell'olio bollente il nemico di turno che è funzionale all'occasione nemico di turno che sarà identificato con una etichetta sarà identificato con uno stereotipo allora negazionista della scienza negazionista dell'etica negazionista ambientale e così via nemico unico che sarà poi perseguitato con una sorta di crociata prima per per deriderlo poi per psicopatologizzarlo poi per mostrificarlo e poi per criminalizzarlo avrei anche altre cose da dire però forse sentiamo sentiamo un primo in primo commento di davide mi sembra un inquadramento molto efficace molto calzante di quello che è successo in questi anni su qual è la strumento la modalità comunicativa io ho letto il libro di gianluca masi su è un lavoro molto interessante di ricerca sulle tattiche di manipolazione comunicativa che meno utilizzate del terzo rai dal ministro della propaganda lo citiamo anche il libro che goebbels 11 tattiche di manipolazione oscura che ha una pregevole prefazione anche del celebre economista jean paul fitussi esatto quindi diciamo lì si può trovare una una si potremmo dire una sinossi comunque una qualche modo una una schematizzazione di quelli che sono le tecniche di comunicazione che tendono manipolare l'opinione pubblica e non poche di queste le abbiamo viste all'opera in questi ultimi anni e devo dire infatti anche questo per lancio palla a te carlo e sfrutto gianluca a mi sembra che come ho detto in altre occasioni la efficacia di questa metodologia quindi l'indicazione del nemico pubblico del nemico unico dell'indicazione di negazionista perde efficacia mano a mano che si va avanti c'è stata devastante con la vicenda psicopandemica ma che ora già con la emergenza bellica aveva perso slancio questa narrazione e sia decisamente fiacca bolsa con la questione dell'emergenza climatica ecco la ripetizione dello schema sempre uguale a se stesso perché mi colpisce che il format sia pressoché identico tutti questi tre casi che ho citato che sono estremamente ravvicinati anzi che sono senza soluzioni di continuità la nuova emergenza sorge la nuova presunta emergenza sorge quando la precedente non è ancora tramontata ecco questa reiterazione in maniera pedisse qua dello schema rischia di perdere efficacia come a me sembra oppure no ha perso efficacia magi questa diciamo che ha un'autonomia sempre più limitata indubbiamente sì perché poi va ad nauseam è una sorta di reazione fisiologica come quando si mangia troppo cibo in modo ravvicinato anche il cibo più gustoso va a nausea e quindi anche in questo caso sta andando una sorta di nausea fisiologica il punto è che alla tattica di manipolazione della semplificazione enemico unico poi si uniscono gli altri affluenti ovvero gli altri principi tattici che sono utilizzati dalla comunicazione che manipola tanto la realtà fattuale cioè la realtà dei fatti concreti nei fatti reali quanto le menti al punto tale che si potrebbe appunto dire che le undici tattiche di manipolazione oscura sono dei modelli anche per predire la direzione di una società democratica questo perché mi adopero nella complessa descrizione di come accade che i governi si tramutino in tirannie più o meno mascherate e di come anche le democrazie si sclerotisino in dinamiche autoritarie seta la avevo preannunciato nell'introduzione della nostra intervista il nostro appuntamento di oggi che ci saremmo concentrati soprattutto sulla informazione non mainstream ma quindi contro informazione o detta anche ecco un'informazione indipendente ecco e quali sono quali sono secondo lei i limiti principali nella comunicazione da parte della parte nostra possiamo dire ecco delle dell'informazione della contro informazione al suo modo di vedere si diciamo subito che la situazione è piuttosto variegata e articolata voglio dire che mi è capitato di inciampare nell'ascolto di diverse trasmissioni di informazioni cosiddette indipendente voglio dire che parlano tutt'altro che al cervello anzi altre sembrano che non parlano neppure alla pancia altre che parlano ai calcagni nel senso che sono fatte coi piedi per non dire che sono fatte ad mentula canis e nell'ascoltarla arrossiamo tutti di imbarazzo per procuro insomma perché diverse di queste trasmissioni sembrano una un insulto involontario alla nostra capacità di comprensione comunque il problema che io individuo nell'informazione indipendente nella nella comunicazione ma di questo che sto per dire non ho sentito ne letto analisi in questo senso e che essa non invita al reale passaggio all'azione questo per me è il punto cruciale intendo dire che il mezzo utilizzato cioè la rete il web e i social e per sua natura narcisistico autistico e intrattenente allora dal punto di vista dell'intrattenimento chi vi partecipa ha l'illusione di partecipare di godere di una di una sorta di libertà seppure in punta di vita per così dire quindi di prendere parte ad una discussione in grado di riverberarsi come dire nella realtà concreta della vita mentre in realtà ciò che accade è l'illusione di essere fuoriusciti dal recinto quadrato dell'informazione mainstream da quella sorta di universo diciamo concentrazionario quindi di essersi liberati da quella trappola di caverna digitale senza poi accorgersi di ritrovarsi in un recinto quadrato più ampio nel quale si è trattenuti e dal quale non si esce si rimane incatenati allo schermo digitale dove scorrono informazioni non mainstream e non si esce per passare all'azione cioè il recinto quadrato più grande voglio dire ha una architettura molto particolare cioè ha una struttura anfiteatrale dove i destinatari sono condannati alla passività cioè non passano all'azione cioè i destinatari se vogliamo dire le cose con una certa diciamo amorevole spietatezza sono preda dell'infotainment cioè lo spettacolo dell'informazione che trattiene dal passaggio all'azione quindi gli esseri umani sono intrattenuti in questo anfiteatro digitale in cui si rincorrono in modo accelerato le informazioni perché la digitalizzazione indebolisce la coscienza dei fatti e delle circostanze e persino la coscienza della realtà stessa è molto interessante questa analisi Davide direi molto se vogliamo anche abbastanza cruda ma la crudezza molto spesso è un grande spunto no? infatti qualche volta io mi sono anche chiesto come mai la censura non arrivi in maniera ben più pesante sull'informazione indipendente o cosiddetta tale perché è vero che esiste la censura specialmente su alcuni social più ancora che su altri però sta di fatto che il grosso del flusso informativo controcorrente viene lasciato scorrere e quindi la risposta a questa domanda che mi sono posto è che proprio la possibilità cioè lasciare da parte del potere la possibilità a questo flusso informativo di arrivare è un qualcosa che ingabbia il dissenso chiamiamolo così cioè ci si sfoga sui social o sul web in più in generale l'opposizione si manifesta lì quindi in maniera virtuale in maniera digitale e sostanzialmente non voglio dire innocua perché è vero che comunque in questi anni voi per me è stato importante sia potermi esprimere sia poter ascoltare punti di vista che non erano quelli del potere ufficiale quindi non dobbiamo esagerare nel dire che sia inutile o castrante però pur essendo utile sta di fatto che il potere la lascia agire almeno finora proprio perché consente di incannare il dissenso non in un'azione come diceva adesso Gianluca ma in un ascolto passivo sul web, sul digitale e in questo modo non consente neppure di riunirsi quindi di fare massa critica come si è sempre fatto di senso politico in passato tutto sommato lo si faceva in modo fisico passando l'azione che non vuol dire ovviamente azione violenta però vuol dire esserci fisicamente contrapporsi vuol dire una fisicità un analogico come diciamo Carlo nelle ultime trasmissioni che ha ben altra efficacia rispetto al solo digitale quindi credo che la motivazione per cui ancora è lasciata una discreta libertà di informazione sul web naturalmente non nella televisione è anche perché ha questa funzione di incanalare il dissenso e di farlo restare dentro casa sostanzialmente disattivarlo già nel nascere diciamo nella nel divano piuttosto che insomma sulla sulla scrivania in pratica Davide stai dicendo che se diciamo l'informazione indipendente la controinformazione riuscisse a mobilitare le persone riuscisse a mobilitare fisicamente insomma il mainstream il potere censurerebbe insomma i canali in pratica perché quando quando le persone cominciano a manifestare fisicamente si cominciano cominciano a esserci numeri importanti e con quelli bisogna cominciare a fare i conti io voglio dire che serve proprio non farla non è che tanto che se l'informazione indipendente riuscisse a far uscire di casa le persone ma proprio il fatto che ci sia l'informazione anche per coloro che non sono d'accordo che il web offra uno strumento anche a chi non è d'accordo con le attuali strategie dei governi del potere più in generale questo fatto consente di non avere la necessità il bisogno di fare altra attività politica di farla in analogico e questo lo vediamo in particolare nelle persone giovani che sono molto giovani in attivi digitali sono non sentono proprio l'esigenza cioè sono ragazzi al punto che neanche sentono l'esigenza di sentire grazie a questa a questo flusso che tutto sommato ti rende passivo sì questo aggiungerei anche alcune cose alle vostre notazioni che mi trovano concorde è proprio intrinseco al fenomeno stesso della digitalizzazione perché la digitalizzazione non crea un collettivo responsabile cioè politicamente attivo questo perché le informazioni si diffondono senza passare dallo spazio pubblico cioè le informazioni vengono prodotti in spazi privati e inviate a spazi privati quindi la rete non costituisce una sfera pubblica è una comunicazione senza comunità quindi non essendoci comunità non può esserci azione politica intendo anche dire che l'odierna crisi del passaggio all'azione può essere ricondotta al metodo a livello per cui l'altro è in sparizione la scomparsa dell'altro in senso fisico produce bolle informatiche autistiche queste bolle informatiche autistiche impantanano il passaggio all'azione nella realtà concreta perché è la presenza fisica dell'altro che invita all'ascolto e produce empatia Sì, molto chiara come analisi molto, estremamente interessante senta, professore Maggi come riuscire a comunicare con efficacia su tematiche sgradite se non addirittura boicottate dal mainstream per attirare gli aspettatori gli ascoltatori abituali delle reti mainstream Beh, è difficile io sempre qui batto la pista sull'invito in questo momento storico in cui è in gioco la sovranità dell'individuo sulla propria vita è opportuno che trasmissioni diciamo indipendenti invitino a raccogliersi alle persone in corpore fisico cioè fisicamente è indispensabile non accontentarsi solo dei contatti digitali questo potrebbe, come dire fare anche aumentare gli ascolti delle trasmissioni di informazione indipendente invitare a non accontentarsi solo dei contatti digitali cioè dei contatti via schermo perché questi contatti virtuali sono insoddisfacenti e insufficienti perché non creano quei rapporti reali e autentici su cui noi sapiens ci siamo costruiti nel corso di decine e decine di migliaia di anni e qui apriamo quella che per me è una linea vitale e cruciale e per la quale potrebbero collaborare anche le trasmissioni di informazione indipendente ovvero noi possiamo costruire ovunque delle micro resistenze politiche cioè possiamo costruire ovunque delle micro resistenze socio psicologiche ed è necessario incontrarci nel mondo comune sulla terra sulla quale ci troviamo sotto il cielo che si stende sopra di noi perché terra e cielo appartengono all'ordine terreno mentre il web appartiene all'ordine digitale quindi ripeto organizzare micro resistenze politiche in piccoli gruppi 10, 20, 30, massimo 40 persone perché incontrarci sempre nello spazio iper reale digitale magari in 100.000 persone è illusorio e significa consegnarci mani e piedi nella dinamica della inazione oltre che del controllo perché anche quello che stiamo dicendo qui è tutto controllato e non sono paranoico quindi la relazione digitale e concludo è un falso contatto e questo occorre tenerlo sempre ben presente è un contatto inautentico le micro resistenze umane si possono poi sviluppare questo incorpore fisico come degli anelli di Borromeo cioè molecole che si vanno a interconnettere con altri anelli di Borromeo in modo da espandere la rete di resistenza questo perché il futuro siamo noi a farlo e il futuro è la maniera in cui noi agiamo davanti a ciò che accade il mondo in cui trasformiamo in verità un movimento, un dubbio e anche il dissenso se rimaniamo circoscritti nel digitale ripeto, ci consegniamo mani e piedi al controllo e alla inazione Davide Rossi e questa è una riflessione fondamentale che tra l'altro devo dire che probabilmente non per caso una delle prime, forse la prima iniziativa culturale cui ho partecipato dopo la prigionia della primavera del 2020 è stata proprio un'iniziativa culturale organizzata da Gianluca Maggi a Pesaro e ne ritrovarci in un qualche decina di persone a dialogare viso a viso è stato emozionante è stato qualcosa che ha fatto percepire la differenza qualitativa fondamentale che adesso Gianluca sottolineava c'è questo fatto perché altrimenti il ricordare questo è fondamentale perché io lo vedo un po' anche su di me il rischio è di assuefarci al fatto che la discussione avviene sul piano digitale e questo piano pur ovviamente avendo una sua validità lo stiamo usando anche noi adesso è bene usarlo però ha dei limiti su molti piani che sono molto forti quindi questo invito che era un po' che non sentivo francamente di rivederci sul piano anche in piccoli gruppi soprattutto in piccoli gruppi e io lo vedo anche quando Gianluca mi capita di girare ho girato abbastanza in questi anni anche per presentare i miei libri il contatto con le persone è qualitativamente proprio diverso ed è quello più sgradito al mainstream al potere quindi questo è io credo un richiamo di Gianluca assolutamente fondamentale sì anche perché credo che l'incontro fisico come diceva Maggi anche poco fa intanto in piccoli gruppi che ovviamente possono espandersi perché poi sono anelli che si uniscono al sistema di potere è una cosa sgradita perché in realtà al potere fa comodo un mondo digitale in cui ognuno tanti tanti no milioni diciamo di atomi rimangono solitari e non e non si associano non non si incontrano fisicamente questo mi sembra il un po il punto il punto nodale e se Tavaggi c'è comunque in qualche modo una strategia che manca nella comunicazione o c'è una strategia sbagliata nella comunicazione da parte dell'informazione indipendente e come dicevamo prima è difficile come dire mettere tutti quanti nello stesso sacco perché è un'informazione indipendente è un contenitore talmente vasto dove ci si trova di tutto trasmissioni serie come questa a trasmissioni fatte ripeto ad mentula canis cioè fatte veramente non lo dico in italiano perché è una parolaccia quindi è difficile dare come dire delle a parte quello che abbiamo detto altri raguagli perché è una situazione estremamente variegata sì ci sono comunque dei dei termini o dei temi che bisognerebbe usare nella comunicazione e altri che non bisognerebbe utilizzare secondo secondo lei innanzitutto evitare di cadere nella trappola delle etichette e delle torsioni linguistiche con cui il mainstream addita il dissenso perché anche questo ho assistito cioè identificarsi nelle etichette di comodo e questo non porta da nessuna parte poi innanzitutto è anche questo molto importante utilizzare il metodo della irrisione oggi noi qui non lo abbiamo fatto ma la tecnica della irrisione del sistema di dominanza e sottomissione questo ci fa respirare ad ampi polmoni e forse può anche allargare la sfera delle persone che possono iniziare a inserirsi in una logica dissidente, divergente o indipendente rispetto al mainstream sta parlando di una comunicazione diciamo più leggera, meno seriosa in questo caso sì, esattamente il contrario di quello che io ho fatto oggi qui sì, ok Davide sì perché si presta molto riprendiamo la famosa definizione una risata li seppellirà e poi anche il potere terapeutico della risata tutto sommato c'è lo yoga della risata addirittura quello magari è meglio evitarlo perché fa tutt'altro che ridere lo yoga della risata è una forzatura sì mentre una risata mi seppellirà mi incontra completamente sintonizzato anche perché la narrazione del mainstream si presta adesso per esempio la eco ansia per esempio che loro ne parlano seriamente forse magari chi studia queste strategie comunicative d'alto livello poi magari si fa delle grasse risate quando vede gli effetti di queste parole d'ordine che vengono messe in circolazione però nei programmi, nei giornali noi le vediamo come cose serie per esempio io ricordo tornando indietro alla cosiddetta pandemia che a un certo punto ci fu il nome di un se tu prendevi contemporaneamente il covid e l'influenza loro questa cosa la chiamavano la florona quindi io penso che quando si inventano questi nomi lo facciano in un gioco irrisorio nei nostri confronti quindi noi dovremmo fare altrettanto perché appunto la narrazione che fanno si presta la eco ansia invece tornando per un attimo fuori dall'irrisione io profitto che metto la prova a Carlo per porre una questione a Gianluca che come tu sai io sto negli ultimi tempi sollevando cioè in questo momento come dicevo all'inizio a me sembra che la platea degli scettici rispetto alla narrazione dominante sia di gran lunga più ampia rispetto a quello del periodo della psicopandemia dove la grande maggioranza aveva aderito la narrazione dominante per paura sono tutta una serie di cose oggi come dicevamo all'inizio le ultime due emergenze che ci hanno scodellato sembrerebbero avere molto a meno presa allora questa io la vedo come un'opportunità per noi per poter comunicare nei confronti di un pubblico che magari fino a un anno fa invece non ci dava retta perché appunto eravamo del tutto squalificati a quegli occhi oggi io vedo che sono orecchie orecchie più attenti è un terreno più fertile per comunicare il nostro tipo di messaggio però dobbiamo trovare strumenti comunicativi nuovi anzi linguaggi nuovi che uno potrebbe essere questo qui dell'irrisione che tu hai già sollevato perché nel mondo dell'informazione indipendente così come è stata fino ad oggi c'è come tu accennavi anche una vasta area che utilizza un linguaggio uno stile che viene considerato non a torto estremista ridicolo complottista eccetera allora come si può intercettare tutta questa fetta della popolazione che fino a questo momento non ci ha seguiti ma che oggi presenta un terreno fertile è una domandona è una domandona questo alla luce di quello che abbiamo detto cioè nel momento in cui si rimane all'interno del circuito digitale per la struttura stessa del sistema della digitalizzazione si creano praticamente delle bolle è difficile espandere queste bolle per me è possibile espandere il cono d'ombra degli scettici negli incontri fisici quindi le trasmissioni e qui mi ripeto non mainstream quindi indipendenti è opportuno che invitino le persone a incontrarsi fisicamente e allora il cono d'ombra degli scettici si amplierà sempre di più ma finché si rimane confinati nel digitale le chance rimangono estremamente poche perché il digitale è costruito secondo un certo modo ovvero autistico narcisistico e intrattenitivo e non se ne esce è proprio la struttura intrinseca del digitale laddove vogliamo fare una meta analisi è proprio il mezzo anche perché l'informazione mainstream e l'informazione indipendente hanno obiettivi opposti nel senso che al mainstream sta benissimo che le persone se ne restino a casa non si aggrevino se non per andare a vedere le partite e le partite di calcio quello va benissimo più ce ne sono meglio è però ecco per loro va benissimo mentre per per chi è alla ricerca della verità e vuole invece ha degli obiettivi diversi di informare veramente è quello il punto a interesse che le persone si associino quindi sono proprio sono proprio gli scopi che sono divergenti divergenti al mainstream la situazione sta benissimo così come mi sembra di capire giusto? sì esattamente quindi fare altrettanto ovvero invitare le persone a incontrarsi fisicamente in questo modo si creano dei micronucli di resistenza attiva nel mondo reale perché quello che avviene nel digitale non è il mondo reale è iper reale noi anche qui siamo davanti a uno schermo perdiamo un'infinità di di contatto siamo spettri da un certo punto di vista e non sto esagerando spettri fatti di pixel senta e comunque una narrazione un'esposizione ironica quella aiutarebbe moltissimo in pratica aiuterebbe anche ad avvicinare un nuovo pubblico a ampliare la platea di ascoltatori in pratica indubbiamente sì perché in qualche modo è a sua volta una tattica diciamo contro manipolativa l'ironia e la risata avvicina insomma le persone ecco sì perché nel momento in cui se si osserva che cosa succede quando si sorride si osserva che i propri occhi si umettano si inumidiscono quindi si diventa più porosi verso l'altro si diventa più ricettivi dell'altro rispetto a un'esposizione noiosa come quella che io ho fatto quest'oggi allora il posto che non lo è però è importante per capire i meccanismi che ci sono che ci sono dietro senta io parlo normalmente la definisco informazione indipendente mentre di solito nel nostro campo ci si autodefinisce contro informazione no e allora è anche importante l'uso dei termini no i termini i termini creano la percezione anche della realtà e lei come che sensazioni che cosa pensa di due termini informazione indipendente contro informazione beh sì come dire informazione indipendente è certamente più elegante che contro informazione però questi utilizzi insomma entreremo in discussioni tipiche del marketing chi utilizza informazione indipendente ha a cuore un certo tipo di utenti chi usa contro informazione ha a cuore un altro tipo di utenti oggi vengono utilizzati come come sinonimi quindi il divario che c'è tra i due è soltanto come dire la focalizzazione del target ecco se volessimo parlarlo quando quando si dice informazioni indipendenti in qualche modo si sta parlando anche degli altri no allora il mainstream dice tutto di se stesso ovviamente tutti i più grandi complimenti ma non può permettersi di dire che è informazione indipendente assolutamente assolutamente verissimo e beh sono tutti non ho mai sentito nessuno voglio dire nel mainstream giornalisti eccetera in tv o nei giornali che nessuno si è mai spinto a dire che fa informazione indipendente il disdoro di cui si è ricoperto il giornalismo mainstream potrebbe arrivare anche a dire tanto ma noi abbiamo assistito alle pagine più vergognose della storia del giornalismo dal dopoguerra in poi quindi arrivare anche addirittura talmente a definirsi indipendenti anziché servi prestolati sì Davide cosa pensi dei due termini? quello che tu hai detto mi trovo d'accordo contro informazione vuol dire che tu imposti la tua informazione per contrastare quella che fa il mainstream invece informazione indipendente significa che tu hai una tua linea non condizionata almeno teoricamente e quindi è sicuramente un termine da utilizzare quest'ultimo rispetto al primo secondo me e poi volevo anche di aggiungere che Zelluca ha scritto un libro sull'umorismo e la spiritualità che io ho e quindi è proprio un tema questo decisivo io mi accorgo effettivamente che quando riesco a farlo non è che sia bravissimo in questo però quando mi viene di farlo l'efficacia aumenta enormemente rispetto a qualsiasi discorso anche magari di altissimo livello ma serioso e quindi dovremmo su questo ho intenzione di lavorarci insomma molto interessante bisognerebbe in conclusione perché mi sembra che spunti Davide sei d'accordo immagino sono stati lanciati tantissimi grazie sia il prezioso apporto anche del di Gianluca Maggi quindi io credo che ci siano poi sentiremo anche le reazioni dei nostri ascoltatori quindi tutto questo si presta magari a confidiamo insomma ad essere ad essere ripreso secondo te può essere interessante utile efficace e anche coniare nuovi termini sì io a me sembra che in quest'area comunicativa informativa e diciamo anche politica sia arrivati un po' a un punto non so se dire di stanca però comunque di fisiologica espansione che si è fermata dove ci si parla sempre tra gli stessi grossomodo quindi e mi sembra che questa cosa si cominci ad avvertire sia in chi fa informazione comunicazione sia in chi la riceve probabilmente più in questi ultimi per cui il tema di trovare strumenti nuovi modalità nuove linguaggio nuovo e fisicità che tu tra l'altro Carlo ha iniziato a fare con gli incontri che fai dal vivo con coloro che seguono il canale il vaso di Pandora e so che hai in animo di fare altri incontri e quindi si sta andando già in quella direzione però io credo che bisognerà spingere l'acceleratore su questi temi che abbiamo toccato oggi quindi lo spazio fisico d'incontro la capacità di parlare di questi temi in maniera irrisoria umoristica e la capacità attraverso anche questi strumenti che ho appena citato di rivolgerci a un pubblico ben più ampio di quello che fino ad oggi ci ha seguiti ripeto però che voglio dire anche ci tengo a ribadire questo comunque la funzione svolta fino a questo momento in questi anni è stata ampiamente importante positiva sia nella mia esperienza personale sia nelle persone che ho incontrato negli momenti più bui di questi ultimi tre anni avere la possibilità di renderti conto che non sei isolato che a pensarla come te non sei solamente tu che sei fuori di testa ma che c'è tutta una pluralità di persone in giro per l'Italia che si riconosce in questo e che ti dà strumenti di studio di informazione che ti sono utili questo è stato fondamentale per cui non rinneghiamo niente però stiamo entrando in una fase nuova più complessa e quindi non si può rimanere fermi immobili a fare sempre le stesse cose una fase nuova e più complessa dicevi giustamente e quindi io colgo anche l'occasione al termine di questa nostra intervista di lanciare l'invito a voi amici ascoltatori di dare il vostro parere magari scrivere qui nei commenti qui sotto degli spunti darci delle suggestioni, dei consigli perché ovviamente siamo in una fase siamo tutti in una fase di evoluzione e quindi è importante proprio evolvere nel nostro ruolo per diventare sempre più efficaci io direi che questo è lo spunto quindi vi invito veramente a portare le vostre riflessioni, suggerimenti, consigli e quant'altro se avete trovato questa nostra intervista interessante pensate che il nostro lavoro sia utile per la vostra informazione allora supportateci con una vostra donazione vi ricordo che potete abbonarvi scegliere come sostenerci con un bonifico bancario libero oppure potete abbonarvi al nostro canale tramite la piattaforma Patreon che vi da accesso a contenuti extra in esclusiva nel testo qui sotto trovate i link per scegliere quale delle due modalità preferite vi ricordo che il canale nostro il vaso di Pandora è demonetizzato da due anni e mezzo da YouTube e pertanto il vostro supporto è fondamentale per noi per esistere e per fare evolvere il vaso di Pandora siamo in chiusura io ringrazio molto per il prezioso contributo è stato un piacere per questa prima volta e confido di ritrovarlo qui nuovamente Gianluca Maggi, storico delle religioni, docente di filosofia, grazie grazie a voi per avermi dato voce e grazie a Davide Rossi a presto con le nostre analisi, con i nostri appuntamenti grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti